Oggi voglio iniziare la settimana raccontandovi una bella storia con un'energia positiva. Si tratta della storia di Charles Holland, un ex ufficiale delle forze speciali inglesi impegnato nella resistenza italiana della Seconda Guerra Mondiale, che ha fondato a Milano, in Italia, questa azienda che è poi diventata famosa in tutto il mondo. Charles subì un trauma acustico durante un incidente aereo, ma non volle accettare passivamente questa condizione e iniziò allora a cercare delle soluzioni tecniche e nel 1950 fondò questa azienda e creò un autobus che girava l'Italia per offrire consulenza acustica. Forse avrete già capito di chi stiamo parlando, la grande Amplifon! Ciao!